Per festeggiare i 30 anni in Italia la Suzuki ha presentato alcuni nuovi modelli, tra i quali oggi proviamo la Gran Vitara Evolution, sempre carattere sportivo, lo dimostra il fatto il grande successo degli ultimi anni nei cross country appunto della Gran Vitara. Di questo restyling possiamo apprezzare le modifiche al frontale dove debutta un nuovo scudo, una nuova calandra con un'indiedita griglia frontale in cui spicca un listello cromato trasversale. Ridisegnato anche il paraurti con un design a bull bar integrato nella parte centrale e con nuovi alloggiamenti per il fendinebbia, oltre a delle modanature laterali cromate. Interni più raffinati, con sedigli e volanti in pelle e un tettuccio apribile e trasparente. La gamma propulsori resta quella già nota, composta dai collaudati 1.6 da 106 CV benzina, disponibile solo nella versione tre porte, il 2.4 166 CV benzina e dal 1.9 turbodiesel da 129 CV. L'abbiamo provato sia su strada e soprattutto in furistrada, come potete vedere per la presentazione in televisione non l'abbiamo neanche lavato e non poteva essere diversamente visto il nostro logo off-road TV. Quattro ruote motrici, ridotte, blocchi, questo rendono come Gran Vitara, un vero furistrada. Ecco le immagini. Il design degli interni di Gran Vitara si abbina perfettamente al suo stile esteriore dal look sportivo. L'atmosfera raffinata invita conducente e passeggeri a relax, mentre l'ambiente elegante e dinamico rispecchia uno stile di vita attivo e amante del divertimento. Interni in pelle, sedili avvolgenti e comodi che sfruttano l'ottimo design con benefici per i passeggeri che si apprezza in strada e in fuoristrada. Tutti i sistemi installati dalla casa produttrice includono comandi a volante che ne rendono l'utilizzo ancora più semplice. La più recente versione della Gran Vitara rimane una vera e propria fuoristrada vecchio stampo, che ha davvero pochi rivali in grado di impensierirla quando si affrontano i percorsi off-road più accidentati. A favore della nuova arrivata giocano un ruolo determinante il robusto telaio, l'efficientissimo sistema di trazione integrale permanente con tanto di marce ridotte e le sospensioni dalla grande escursione. Tutti elementi che, uniti alla notevole altezza da terra e alla buona elasticità del propulsore, permettono alla dinamica 4x4 Suzuki di muoversi in tutta sicurezza anche su terreni molto accidentati e a scarsissima aderenza, come le mulattiere più impervie o le profonde fangaie. Il collaudato sistema di trazione integrale a 4 modalità del Gran Vitara trasmette potenza a tutte le ruote simultaneamente, garantendoti una trazione efficace indipendentemente dalle condizioni del percorso. Un apposito comando incorporato nella console centrale ti permette di passare rapidamente e facilmente dalla modalità normale 4H, utilizzabile per la maggior parte delle condizioni di guida, alla 4H lock, che blocca il differenziale centrale per affrontare al meglio anche sterrati impegnativi, fino alla 4L lock, che blocca il differenziale centrale ed innesta le marce ridotte per superfici dalle condizioni estreme. Per i prezzi partiamo da 23.490 euro per il modello base 1.6 benzina Evolution 3 porte, fino ad arrivare al top della gamma che sfiora i 33.000 euro per il 1.9 turbodiesel Evolution Plus crossover 5 porte.